Eleonora Pratelli è la moglie di Beppe Fiorello, nonché un'imprenditrice di grande successo Ma cosa sappiamo di lei? Eleonora Pratelli, oltre a essere la moglie dell'attore Beppe Fiorello, è un'imprenditrice di enorme successo e, come suo marito, è impegnata nel mondo dello spettacolo Ma cos'altro sappiamo di lei? Leggi anche, Alvaro Cervantes, chi è l'attore di L'Orologio del Diavolo? Età, carriera, Instagram Chi è Eleonora Pratelli? Biografia Nonostante Eleonora Pratelli sia nota nell'ambiente dello spettacolo, sul web non è possibile reperire notizie del suo passato o sulle sue origini Quello che emerge è che il rapporto con Beppe Fiorello è affiatato e stabile Beppe Fiorello e Eleonora Pratelli e l'attore Beppe Fiorello hanno convissuto tantissimi anni e nel 2010 si sono sposati, l'imprenditrice è al fianco del fratello di Rosario Fiorello da oltre vent'anni I due, prima di sposarsi, hanno avuto due bambini, Anita e Nicola, che hanno fatto da paggetti durante la cerimonia di nozze Foto, Metropolitan Magazine.com I due si sono conosciuti nell'ufficio di lei ed entrambi hanno subito manifestato grande interesse l'uno per l'altra L'attore, uscendo da lì, le ha scritto un SMS che recitava, una vera e propria dichiarazione d'amore. Da quel giorno non si sono mai più separati Lavoro di Eleonora Pratelli Eleonora Pratelli è la CEO di Suite 19, un'agenzia specializzata in sponsorizzazioni di celebrità Il team di Eleonora Pratelli si occupa di gestire il look dei personaggi più famosi del nostro panorama artistico, prima di ogni grande evento Prima di arrivare a questa carica di tutto rispetto, la moglie di Beppe Fiorello ha fatto tanta gavetta, a partire dal 1997 Ha da sempre curato l'immagine delle dai fino ad aprire la propria boutique agency Instagram Eleonora non ha un suo profilo Instagram privato, ma aggiorna costantemente quello della sua agenzia Qui, il link Grazie per aver guardato il video Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video, ciao